Quello che vale in realtà non è l'oggetto metallico, è l'idea che ci sta dentro. La cosa interessante è che eravamo riusciti ad arrivare sei anni, sette anni prima di Audi. Si chiama Iena. La Delta Integrale è una delle auto più sexy di tutti i tempi. Lo era per via della sua muscolatura, utile a contenere una meccanica unica e necessaria a farla diventare la regina dei rally. Come metterci le mani senza comprometterle, senza omeopatizzare il suo carico testosteronico. Questo è il problema da risolvere. Serve un cambio di passo, un salto logico. Ed ecco quindi la Iena, un modello raro e ricercato che anticipa le tendenze di un mondo che stava cambiando. In quel momento c'era l'unica macchina alta di gamma, 4x4, che era la Bugatti, la B110. È arrivata un anno dopo. Quindi era nell'aria l'idea che i coupé potessero essere 4x4. E quindi l'idea di fare un coupé sulla Delta Integrale ci sembrava logico. E di chiamarlo sport ci sembrava altrettanto logico, andando a pescare nel nostro prezzaggio. La Iena e Lancia, quindi il classico che sta bene ovunque, ma anche integrale, quindi sportiva perché corre. E qui ha un vestito di sartoria firmato zagato. Quindi privo di orpelli ma essenziale, funzionale. La bellezza, come si dice, necessaria. Necessaria alla performance ottenuta, come il design del resto, che arriva per sottrazione. Il carrozziere fa il carrozziere. Cioè nel carrozziere non tocca mai la parte meccanica. Riesce a ottenere delle prestazioni migliorative con il peso. Quindi migliore accelerazione, migliore frenata, migliore tenuta di strada, ma sempre con la carrozzeria. È la differenza tra il carrozziere e il tuner, che invece va a preparare il motore. Avevamo alleggerito gli interni. Gli interni era la parte più facile del lavoro, perché era una macchina a quattro porte. Quattro porte e quattro posti. Farla diventare due posti secchi, con un interno tutto in carbonio. Voleva dire guadagnare un sacco di peso, anche di più che sugli esterni, che erano in alluminio a carbonio. Grande risparmio di peso ce l'avevamo tutti eliminando tutti gli interni. Via il divano, ma in questo caso ci sono due poltroncine volute dal proprietario e le portiere posteriori per dar forma a una coupé ad alte prestazioni e alta desiderabilità, visto che il biglietto d'accesso a questa lancia zagato è a numero chiuso. 25 pezzi. Portammo la Iena a una convention dell'ACI, dell'associazione dei concessionari Lancia. C'erano 150 concessionari. Mettemmo in imbarazzo il gruppo, perché erano tutti entusiasti di avere una Lancia coupé su delta integrale che potesse essere venduta un po' più alta di gambe. Secondo le concessionari c'era un mercato per questo tipo di prodotto. Tutto sommato avevano ragione, perché nel 98 uscì la TT, guarda caso, sembra la Iena, versione tedesca della Iena 4x4, e noi eravamo arrivati sei anni prima. Quindi è stata, dal mio punto di vista, una grande occasione mancata. Guardiamola un attimo da vicino, ci sono una serie di dettagli notevoli. Portiere in un unico pezzo, praticamente un monoscocca. Superfici vetrate della Alfa Romeo SZ. Dietro la macchina è chiusa, non c'è il baule, e il tappo della benzina è uguale a quello della delta integrale. Sottrazione significa ridurre al minimo il peso, e pensate che la trasformazione che ha portato la delta integrale, quindi una Hotach, a diventare questa Iena zagato, una coupé, ha fatto risparmiare 150 kg. Oltre a quello che ci siamo già detti, l'abitacolo, ad esempio, è stato completamente rivisto, anzi è stato stravolto. La plancia originale è stata sostituita da una in carbonio, rifinita anche in Alcantara, che incorpora una strumentazione molto completa, bocchette dell'aria incorniciate da particolari in carbonio, ha fatto tutto molto bene, anche la climatizzazione classica della delta a rivestimenti specifici in carbonio, e questo ha permesso di contenere il peso. pensate che tutto questo elemento pesa solo i 5 kg. Gli interni in carbonio furono realizzati in Francia da un'azienda che si chiamava Moc, e che faceva gli interni in carbonio per Renault Sport, per tutte le vetture di Renault Sport, e mi ricordo che faceva le valigette in carbonio per Hermès. Quindi aveva la capacità di fare delle cose, degli oggetti molto tecnici, ma anche questo incarico di realizzare degli oggetti con un'alta qualità. Quindi ci era sembrato il migliore interprete per riuscire a realizzare un oggetto brutale, come può essere un interno tutto in carbonio, ma con un allure di prodotto di lusso. Rispetto alla Delta Integrale che abbiamo imparato a conoscere, questa è più rigida e sembra più agile, un po' più compatta, un po' più cucita intorno a chi guida. Questo, d'altro canto, è l'essenza della coupé, è il risultato del lavoro svolto da Zagato sull'integrale. È una macchina assolutamente precisa, e che è un piacere guidare proprio per questa sua estrema precisione. che ti dà anche un senso di grande sicurezza quando vai a fare. La posizione di guida cambia di poco, in questo caso cambia il volante che è a calice, quindi di derivazione realistica, non è quello originale, mentre i sedili sono quelli delle Evo 2, così come i cerchi da 16 pollici. La Iena ha un valore simbolico che va al di là del suo essere quasi introvabile, incredibile o veloce. Intanto è destinata a pochi. Nel mondo esistono una manciata, 25 appunto, e in questo senso ha anticipato il trend dell'esclusività che oggi domina la maggior parte delle scelte collezionistiche. Poi l'autenticità, come tutte le sport di Zagato, ovvero le lancia firmate dal carrozziere milanese, la coda è discendente. Qui infatti ci sono tutti i rimandi alla Fulvia Zagato. Infine, l'essere un trendsetter avrà anticipato in qualche modo l'esigenza di un gruppo di automobilisti rampanti cui evidentemente Andrea Zagato aveva tastato il polso persone che cercavano oggetti unici da contrapporre alla produzione di massa. All'epoca non c'era niente di meglio che prendere una delta integrale, alleggerirla, renderla più aerodinamica per distillare l'essenza di una campionessa della velocità. perché, come dici, è un oggetto cool.